Ciao ragazzi, oggi è il 18 di marzo, sto andando alla palestra Soho Gym qui a Covent Garden, mi trovo infatti con una ragazza del gruppo, Andrea Burla, e oggi praticamente alleno petto, spalle e tricipiti, quindi oggi è il giorno di push, primo giorno della settimana di allenamento di push, poi ce ne sarà uno verso fine settimana, di solito al sabato. Oggi sono arrivate anche le nuove felpe della campagna che abbiamo lanciato da Incredible Bulk, quindi presto arriveranno immagino anche a voi in Italia, appena arrivano postatele ovviamente sul gruppo con un selfie, quindi adesso mi oriento un attimo, e comunque in questa palestra non sono mai andato, Andrea è qui a studiare inglese, o comunque si è trasferito all'Andra da poco, e ci siamo incontrati una volta per caso, mi ha riconosciuto nella zona di Covent Garden appunto, stavo tornando a Cipotle un giorno, e quindi insomma dopo che ci siamo sentiti su Facebook mi ha deciso di fare questo allenamento, dopo che ha visto appunto anche che mi sono allenato con Ardev alcune settimane fa, quindi riprenderemo ovviamente, e poi posteremo gli highlights, o comunque alcuni momenti dell'allenamento sul canale di YouTube, a dopo! Al prossimo episodio 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 Al prossimo episodio